Salve ragazzi e bentornati con la carriera allenatore Allora, quest'oggi inizieremo subito con la sfida al Villareal E poi continueremo a fare calcio a mercato Perché appunto bisogna continuare a rinforzare questa squadra Che teoricamente ha un progetto molto ambizioso Che vuole arrivare in alto Quindi noi proveremo a fare il massimo Ma come al solito raga, prima di iniziare a giocare Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale Per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità E a seguirmi sulla pagina Instagram Il link del profilo è come sempre in descrizione E detto ciò raga, possiamo andare subito ad affrontare il Villareal Vi ricordo che la prima giornata, nella scorsa puntata Abbiamo miseramente perso 1-0 contro il Girone in casa Quindi bisogna iniziare a fare punti il più presto possibile Anche se è solamente la seconda giornata E quindi schiereremo un po' la nuova formazione Con sempre Castelso Freipali Poi Acugna, Jonathan Tacco, Hansa e Montiel Camara e McTominie Ed è qui che c'è la vera differenza rispetto al solito Speriamo bene che questi due insieme rendino Ma veramente al massimo E poi l'attacco Ocampos, Oscar, Pedro Neto e Osimen Ragazzi, subito il Villareal che prova a rendersi pericoloso con Dajuma E Castelso deve fare la prima parata da quando è arrivato Perché con il Girone abbiamo subito semplicemente un tiro Abbiamo perso, quindi Questa è quella prima parata effettiva Ragazzi, Ocampos, possiamo avanzare l'appaggio Per Ocampos Che riesce a sbloccare la partita Gol stranissimo Lì con Osyman Non mi aspettavo che Ocampos Facesse questo inserimento Ma alla fine Si è rivelato efficace E siamo in vantaggio E devo dire che questa maglia rossa del Siviglia Mi piace tanto A me, raga, le maglie Rosse Da calcio Spiccano sempre ai miei occhi Non so perché Infatti Mi piace sempre quella della Roma Vabbè, comunque dettaglio Ma oggi subito la risposta Radio, che è sicuramente ostico Stiamo riuscendo a fare un'ottima partita Qui Il gol che verrà attribuito ad Ocampos Nonostante la deviazione di Bottman Sì, doppietto di Lucas Occhio ragazzo d'angolo Che gli areala sarebbe troppo importante Andare all'intervallo Con questo punteggio Anche se il tempo dovrebbe essere già scaduto E quindi dovremmo già essere all'intervallo Si può ripartire Ma ovviamente l'arbitro fischierà Ovviamente Comunque Termina qui la partita Il primo tempo a meno Anzi, purtroppo 2-0 per noi Occhio Dentro Casper Dolber Che riesce a trovare il gol Proprio ad inizio di presa Che riapre in match Attenzione, raga Che qui è ancora lunga Raga, occhio Pedro Neto Riesce a passare con i suoi dribbling Pedro Neto Pedro Neto Sul primo palo Para proprio Chakir Che abbiamo cercato anche noi Peccato Raga, occhio Osimene qui è passato Bella giocata Osimene Può ancora andare Deve provare a calciare Perché lo stanno pressando Però Tiro troppo alto E arriva anche un triplo cambio Come noi Purtroppo ha saltato lì La scena Comunque Dentro la famiglia per Osimene Esus Corona Per Pedro Neto E in campo anche Oliver Torres A posto di Oscar Raga, occhio Siamo al novantesimo È praticamente finito Dobbiamo resistere Un altro po' Che fatica Ragazzi Tutta la stagione Sarà così Sarà un inferno Comunque Arriva il fischio finale Meno male 2-1 Vittoria Soffertissima Ma allo stesso tempo Crescita bloccata Ma sono arrivato Madonna FIFA Fino all'ultimo Cioè Fino al giorno Prima che uscirà il nuovo FIFA Io sono ancora qui A lamentarmi Della crescita Dei giocatori Che si blocca Comunque Ora questo Montes Che dalla scorsa puntata Che dovevamo vendere Finalmente l'abbiamo venduto Comunque Ancora non arriva Mezza offerta Cioè ragazzi Ho mezza squadra Sul mercato Che dite Ce la facciamo Letto qualcosa Allora A parte tutti i resoconti E tante partite spostate Quindi è stato fatto Il sorteggio di conferenza Il Wolverhampton Va sulla mela La mela È essenziale Da vendere Quindi Proviamo ad arrodondare A 14 E accontentiamoci Quindi 14 milioni Accettati subito Meno male Forse poteva fare pure i 15 Comunque Aspettate un attimo Perché qua tutti i resoconti Però penso che Sono giocatori Che si Sono forti Però faccio Prima vedere Dalla lista Ma prima però Raga Voglio dare un'occhiata Qui Europa League No raga Perché siamo in Europa League No raga Veramente Perché siamo in Europa League Dovremmo essere in conference Dai raga Perché FIFA Ti prego Perché siamo in conference Cioè Non siamo in conference Siamo in Europa League Scusa Le squadre spagnoli No Quali sono Allora Valencia Che l'anno scorso Non mi ricordo Non mi ricordo Che posizione arrivò Però ragazzi Noi arrivammo Settimi Ero certo Al 100% Che dovevamo giocarci La conferenza Perché ricordo Che l'Europa League La vinse la società Che quindi Sarà in Champions Ma perché siamo in Europa League Raga Scusa La squadra spagnola In conference Quale sarebbe Comunque Aspettate un attimo Siviglia E una Poi due Col Valencia E Basta Sì Due squadre In conference C'è il Bilbao Boh raga Non ne te Siamo in Europa League Va bene comunque Perché ci sta Però ero convinto Di beccare Cioè di stare In conference Cioè ero convintissimo Forse E spero che sia così Per FIFA Altrimenti non ha senso L'anno scorso Il Siviglia Ha vinto La Coppa del Re Però non c'è un modo Per vedere Se la squadra Ha vinto La Coppa del Re Dovevamo controllare subito Appena arrivati in squadra Effettivamente Io ho un salvataggio Con lo Schalke 04 Se non Cioè se non mi scordo Dopo Te la camera è spente Vado a controllare Per sicurezza Per capire perché Siamo in Europa League E non in conference Comunque ragazzi A parte tutto Girone con Monjean Gladbach Helsinki E Mijillan Quindi Decisamente Abbordabile Però Queste partite Sono messe Cioè questa qui Con Monjean Gladbach Dopo il Real Madrid Questa qui Vabbè Una settimana prima Del Barcellona Beh raga È fattibile È fattibile Ed è per questo Che a maggior ragione Bisognerebbe fare Un mercato importante Attualmente Siamo senza soldi Ma raga Dobbiamo vendere Tutta sta gente Cioè è assurdo Che non arrivi Neanche mezza offerta Come sempre FIFA funziona così Purtroppo Comunque abbiamo ancora Altri giocatori Qui che non sappiamo Quanto sono di overhaul Quindi aspetterei Che si completi il quadro Non dovrebbe mancarci troppo Ci sono qui Giocatori molto interessanti Che vorrei effettivamente Sapere quanto hanno Di overhaul Comunque ecco qui Un'altra offerta La tabellina Su Rafamir Ottimo Interessante Però ci stanno offrendo 32 milioni Non è nulla Per Rafamir Proviamo però A trattare E a chiedere 70 milioni Che effettivamente È una cifra giusta Secondo me Per questo giocatore Adesso aumentano Qui meno male Proviamo 68 A questo punto Raga vorrei provare A venderlo Perché vorrei Un attaccante Differente Occhio che Accettati 68 milioni Per Rafamir Che sono tanti 30 milioni in più Rispetto a quanto vale Comunque raga Un'altra cosa Che voglio fare È provare a fare Lo scambio con la Lazio Con Creici Però appunto Solamente lo scambio Perché attualmente Abbiamo pochi soldi Però se sono interessati Allo scambio Si può fare la trattativa Però raga Occhio che sto rischiando Tanto Perché se di Lenin Non interessa La Lazio Io sono fregato No Ma dai Ma no Stavo dicendo Sono fregato Perché appunto Non ci sarebbe più tempo Però Però FIFA Dai FIFA 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 Non puoi farmela Sattare direttamente Prima era così bello Che potevi mettere Pure un giocatore Che valeva un milione E lo scambio Lo prendevano Comunque in considerazione Perché effettivamente Ha più senso così No Niente raga Vabbè dai Evitiamo di pensarci troppo Andiamo subito in campo Contro la società Di seconda partita di oggi Purtroppo Camarà E McTomin Appena arrivati Sono molto stanchi A causa degli allenamenti Quindi Sono costretto A far giocare ancora Di Lenei E Paredes Raga Occhio Petroneto Può avanzare Petroneto 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 No La traversa L'avevo vista dentro Che gol Che aveva fatto Petroneto Si vede Che lo conosciamo già E l'abbiamo già usato Quest'anno Nella carriera con l'Unì Effettivamente Mi so muovere con lui Non la cacchio È passato Miguel Merino Palla dietro Ci siamo salvati In qualche modo La palla di Madelli Castels Che dice La vogliamo prendere E questa è l'intelligenza Artificiale nel 2022 Cacchio a calcio d'angolo È passato La società La serpentina Qui al sinistro No La palla rimane lì Era tutto buono Miracolo Quindi di Castels Madonna Che azione confusa Occhio Campos O scarpe di movimento Di Ozyman Arriva la parata Di Remiro E termine Primo tempo 0-0 All'intervallo Ci stiamo provando Stessa cosa Anche la società Ma per ora Reggio L'equilibrio Occhio No Qui Castels Qui poteva fare Secondo me Qualcosina in più Comunque arriva in vantaggio Della società Con Morata No c'è ancora Niente Arriva l'1-2 Micidiale Della società Addirittura Quella doppietta Di Morata Qui blackout Improvviso La parte nostra E non va bene così Soprattutto perché Siamo in casa Quindi Raga possiamo andare C'è un po' di Campos Carbo La prossima De Vittor Il destro di Ozyman Che stavolta Non può sbagliare Finalmente Riesce a segnare Il primo gol Anche se Noi vogliamo sempre Provare a vinderlo Eh Raga Ozyman Riesce a seguire Ocampos Vai Ocampos Ocampos Corri 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 Niente Raga una partita intera Riccardo Pereira Su Ocampos Non si è staccato Di mezzo centimetro Manco se fosse Zambrotta Questo No no Che cavolo No Traversa Ma Che azione strana Comunque raga Mi sa che è finita Il recupero è di un minuto Deve provarci Pedro Neto Forza Pedro Forza Pedro Chiuso qui E mi sa Che le speranze Finiscono Peccato raga 2-1 Un'altra sconfitta In casa Per il momento Tre partite Solamente Tre punti Sicuramente Non siamo partiti bene Anzi E comunque Comunque raga Vediamo La mela Ufficialmente venduto Mencialo vuole il Leeds E il Glabak Che abbiamo Beccato in Europa League Vuole Paredes Allora Paredes Secondo me È un buon sostituto A centrocampo Però vado comunque A trattare Perché secondo me Ha 29 anni Si può pensare Di venderlo E sul mercato C'è sempre di meglio Poi Però raga Prova a chiedere Veramente tanto 40 milioni Sono fermi A 22 Non c'ha senso Trattare così Facciamo anche 38 Mi sa che qua Siamo solo Perdendo tempo Si fermi A 22 Ragazzi Meglio rifiutare Comunque Ufficiale Anche la cessione Di Rafamir E altri Resoconti Che arrivano Perfetto Al momento Allora C'è un problemino Grande Adesso Adesso Abbiamo un attaccante In meno Ma allo stesso tempo Non possiamo acquistare Nessuno Perché abbiamo ancora Rosimena in squadra E quindi Attualmente la situazione È abbastanza critica Nel senso che Non possiamo fare Effettivamente Altro mercato Se prima non vendiamo Perché ragazzi Abbiamo Allora In porta tre portieri In difesa Stiamo a posto Diciamo In difesa Fino ai centrali Poi per i direzzini Destri Ne abbiamo addirittura Due in più È su Snavas E Carmona E non è arrivata Mezza offerta Poi al centrocampo Adesso ne abbiamo Cinque Con questo giovane Che sarebbe da vendere A sto punto Di Leni Può restare in riserva A meno Fino a gennaio Comunque sono Sia Paredes Che lui Due giocatori validi Quindi non ci sarebbero Problemi Questo Ortiz È da vendere Questo Hutchinson Non è arrivato Però è una buona Terza scelta A sto ragazzo Oliver Torres Effettivamente Non l'ho provato mai Si può provare A mettere in vendita Oscar mi sembra buono Però un C o C Bello forte Ci potrebbe stare In attacco Qui Gomez L'ho messo sul mercato Perché Ha già perso Due punti Over all Quindi non mi sembra Il caso Poi effettivamente Ha un calo Anche con le statistiche Ocampos Va più che bene Però è chiaro Che se vendiamo Papu Gomez Va preso Una bella ala E questo qui Questo giovane Come terza scelta Va più che bene Sulla destra Mi sento coperto Con Pedro Neto E Corona Come sostituto Questo Sanchez E Zarzana Da vendere Pure Suso Ancora non riusciamo a vendere Neanche lui E poi qua Appunto Le due punte Osimene Mucoco Mucoco Che tornerà Fra un po' E Osimene Che è sul mercato Per far cassa Ma cassa abbondante Ma non è arrivata Mezza offerta Si potrebbe provare A prendere Un attaccante A prescindere Perché appunto Mucoco È infortunato E si spera Che nel corso Di questi mesi Fino all'arrivo Di gennaio Arrivi un'offerta Per Osimene Sarebbe assurdo Il contrario Secondo me E quindi A questo punto Si torna Nell'hubo mercato Per parlare appunto Di centravanti Ragazzi io vorrei Vi dico la verità Un giocatore Alla Muriel Si risterna Un 82 Madonna Si è cresciuto tanto Secondo me Un giocatore Anzianotto Ecco adesso Anche Dembélé Potrebbe essere interessante Però Secondo me Un Muriel Addirittura Con il prezzo bloccato Con queste statistiche Magari anche allenato Potrebbe essere Secondo me Devastante A dir poco Poi Stesso discorso Andrebbe fatto Anche con Beglie Dare Che però Qui è appena andato Alla Sociedad Proprio Quindi eviterei Poi Mencia è andato E' andato Allo Schalke Per sostituire Mukoko Che da questo punto Bellissimo acquisto Comunque anche Suarez Sarebbe un bel acquisto Madonna quanto corre Suarez Impressionante Però Secondo me Ci prendiamo Un attaccante Su cui Non ci punti troppo Oppure si C'è nel senso Ragazzi io Nonostante sia adesso Ancora un 78 Io vorrei puntare Comunque tutto Su Mukoko Ma più che altro Per la carriera in sé Cioè mi piace Questa idea Di avere tipo Un pupillo E portarselo Fino all'ultimo In tutte le squadre E farlo crescere Il più possibile Secondo me Mukoko Può diventare Tranquillamente Un 90 Per fine carriera Ed è proprio per questo Che vorrei puntare No su un Suarez Che potrebbe crescere Tanto E fare anche La differenza Vorrei puntare appunto Su un attaccante Stile Muriel E ragazzi Secondo me Muriel È perfetto Ma anche forse La casette Beglierder No a sto punto Lo escludo Perché si è appena Traspirato Quindi non mi sembrerebbe Il caso Gnaki Williams Molto interessante Però ragazzi Vi ripeto Secondo me Muriel È la perfezione Poi ragazzi È estremamente Baccato su FIFA Non l'ho provato mai Se non lo provo In una situazione Del genere Non lo provo più Però ci penseremo Nella prossima puntata Dove faremo L'ultimo giorno Di calciomercato Dove appunto Proveremo A vendere Ovviamente E Vediamo un attimo Qui Munia Inna Napoli Ok No comunque Proveremo sia a vendere Ad acquistare Appunto Una trattativa Fattibile Sarebbe questa qui Dell'attaccante Oppure anche l'ala Però finché C'è il Papu Gomez Boh Non lo so Con l'attaccante È più senso Perché Mucocone È ancora infortunato Poi ci vorrà anche tempo Per tornare in forma Quindi Boh Comunque ragazzi Ci penseremo con calma Nella prossima puntata Io per il momento Appunto Mi fermo qua Vi invito a lasciare un like Un commento Ma soprattutto Iscrivetevi al canale E assicurimi sulla pagina Instagram Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima